Buongiorno e ben trovati con i giornali in edicola, l'appuntamento quotidiano con la nostra rassegna stampa. Oggi sulle prime pagine delle maggiori testate nazionali troviamo il resoconto del quinto giorno di guerra in Medio Oriente dopo l'attacco sferrato da Hamas ai danni di Israele che ha varato un governo di crisi, un governo di emergenza di cui fanno parte anche le opposizioni nel presentare questo esecutivo di emergenza che deve pianificare la risposta israeliana al gruppo terroristico. Netanyahu ha definito morto qualsiasi componente del gruppo terroristico. Ieri poi ci sono stati tra i tanti bombardamenti anche quello che ha colpito la famiglia di uno dei presunti leader di Hamas Deif, qualsiasi uomo componente di Hamas deve considerarsi un uomo morto e questo tipo di dichiarazione preoccupa la comunità internazionale che teme l'ampliarsi del conflitto dopo che Hamas ha chiamato in piazza il mondo arabo per reagire contro Israele. Nel frattempo però la striscia di Gaza è sotto assedio, al buio, mancano anche i beni di prima necessità e proprio in occasione della missione del ministro degli esteri italiano Tajani al Sisi, alle agenzie internazionali, ha chiesto un cessato il fuoco di almeno sei ore a Israele per consentire l'apertura del balico di Rafa che resta l'unica strada per la fuga dei civili ma anche per l'ingresso nella striscia degli aiuti e dei beni di prima necessità. Quindi la necessità è quella proprio di aprire il valico per consentire i corridoi umanitari. Ovviamente la crisi medio orientale è stata ieri anche al centro del vertice che si è tenuto a Bruxelles della Nato, Biden. Il governo americano si dicono pronti a sostenere il governo israeliano fornendo armi ma fornendole anche all'Ucraina. Infatti Zelensky ieri era appunto a Bruxelles e ha chiesto, dopo aver mostrato solidarietà a Israele in qualità di paese attaccato, ha chiesto però che non venga dimenticata la guerra in Ucraina che potrebbe in questo momento subire un contraccolpo da parte della Russia che potrebbe approfittare appunto di questi riflettori accesi sulla parte del Medio Oriente in cui appunto stanno avvenendo i nuovi combattimenti. Nel frattempo però la politica italiana pensa alla manovra di bilancio. Ieri è stato approvato lo scostamento e la Nadef è approdata in Parlamento con la preoccupazione del Fondo Monetario e di alcune agenzie di rating che chiedono all'Italia di tenere sotto controllo i conti. La risposta di Giorgetti d'Italia sta facendo bene, la manovra è una manovra prudente. Per questo anche il presidente del Consiglio Meloni ieri ha riunito la maggioranza per evitare emendamenti alla legge di bilancio che possono mettere in difficoltà il governo. Però non c'è soltanto questo sulle prime pagine, c'è anche la cronaca con la sentenza di secondo grado a carico dell'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. Crolla il castello accusatorio che in primo grado lo aveva condannato a più di 13 anni di carcere e cade l'accusa di favoreggiamento. Resta in piedi soltanto quella di abuso di ufficio con la condanna a un anno e mezzo di reclusione però con pena sospesa. E poi la presentazione della candidata di Roma del 2030 ieri a Parigi con il messaggio del presidente della Repubblica Seggio Martarella. Allora questi sono gli argomenti più importanti che cominciamo a guardare insieme partendo come sempre dal Corriere della Sera. Gaza, la morsa e il buio. Netanyahu trova l'accordo per formare un governo di crisi. Tajani c'è un terzo italiano disperso. È un italiano che come gli altri due ha il doppio passaporto appunto italiano e israeliano ed è uno dei ragazzi che partecipava al rave nel deserto di cui non si hanno più notizie. Tajani come altri leader tra cui anche il Papa hanno chiesto la liberazione degli ostaggi civili tra cui molte donne e bambini prese in ostaggio dagli uomini di Hamas. Spenta l'ultima centrale elettrica, civili in trappola, Israele, operazione senza precedenti e sugli ostaggi c'è anche la mediazione del presidente turco Erdogan che appunto tratta con Hamas. Sempre su questo in primo piano i dati che caratterizzano la striscia di Gaza. Nella striscia il 40% non ha neppure 14 anni e appunto sui ragazzi che erano nel deserto i volti del rave, gli scatti, poi l'orrore. E la fotonotizia ovviamente riguarda proprio il conflitto. Di taglio più basso invece troviamo il caso di Catania, la giudice Yolanda Apostolico che libera altri quattro migranti perché ha deciso di non convalidare i trattenimenti nel CPR di Pozzallo così come previsto dal governo italiano. Resta il giallo sulla diffusione del video. Il video è quello che ha diffuso sui social il leader della Lega Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in cui si vede la giudice manifestare a favore dei migranti e questo tanto ha fatto scattare delle polemiche con le opposizioni che hanno chiesto però chi abbia diffuso e fornito al leader leghista il video. Si tratta di un carabiniere nei confronti del quale però al momento non sono stati ancora presi provvedimenti. Poi abbiamo Lucano, l'accusa crolla in appello, immigrazione clandestina, sentenza ribaltata per Mimmo, appunto Lucano, l'ex sindaco di Riace. Sempre la cronaca in prima di taglio medio basso qui, assoluzione in secondo grado per il giallo della morte della stilista Benusilio impiccata a Milano. Non è stato l'ex fidanzato, è stato assolto in appello tra la rabbia della mamma e della sorella della vittima. Lo ricorderete nel 2021, nel maggio del 2021, questa giovane donna stilista fu trovata in piazza Napoli a Milano con una sciarpa attorno al collo che era agganciata ad un ramo. Si era parlato di suicidio, le indagini poi hanno virato sull'ipotesi dell'omicidio con l'ex fidanzato con cui aveva una relazione un po' turbolenta sul banco degli imputati che però in appello è stato assolto. E poi l'incidente sulla Marghera Venezia, il bus precipitato, tre indagati, sono due tecnici comunali e un manager, lo ricorderete, il volo dal cavalcavia che era usurato e che ha provocato la morte di 21 persone, tra cui il conducente del bus. Repubblica, prigionieri di Gaza, le famiglie palestinesi che lasciano nella foto le loro abitazioni e trattative frenetiche con l'Egitto per i corridoi umanitari, ma l'unica via di fuga è bloccata e anche bombardata da Israele che è il valico di Rafa e i civili sono in trappola. La striscia è al buio, spenta la centrale elettrica ed Erdogan negozia sugli ostaggi. Netanyahu invece vara il governo di guerra. Putin, Israele non usi la forza e l'ipotesi è che il leader del Cremilino, sia trattando con l'Iran per sostenere Hamas. Ieri è intervenuto appunto chiedendo a Israele di dare una risposta che non sia di gran lunga superiore all'attacco subito. Sospetti nato sul ruolo della Wagner appunto nel conflitto medio orientale, lo conoscete oramai, è la truppa di mercenari che era capeggiata da Prigogin, ucciso il 24 giugno scorso mentre sorvolava una parte, mentre era a bordo di un aereo, l'aereo che è stato abbattuto e lui è morto. C'è il sospetto che abbia la Wagner delle responsabilità adesso qui nel conflitto in Medio Oriente. di spalla invece Fondo Monetario e Fitch i dubbi sulla manovra mentre Giorgetti fa muro e poi l'assoluzione dopo undici anni per rileciti finanziari a Monte dei Paschi di Siena tra cui l'allora vertice Mussari che ha definito quanto vissuto un incubo. E poi cadono le accuse per Mimmo Lucano che ha appunto non ha rubato né tantomeno lucrato su quel sistema di accoglienza che ha reso Riace un modello a livello internazionale, Riace un piccolo paese in Calabria e appunto l'assoluzione in secondo grado. La stampa di Torino che parla della notte di Gaza, chiusa la centrale elettrica, la striscia al buio, Israele pronta all'attacco, gli Stati Uniti, corridoi umanitari per i civili. E c'è Francesca Paci che è ad Ashkelon dove sotto le bombe è finito anche l'ospedale con tante vittime anche tra chi era lì per chiedere aiuto e quindi anche tutta la parte dedicata solitamente all'editoriale del giornale diretto da Andrea Malaguti è dedicata proprio alla guerra in Medio Oriente. Il destino è segnato di Bibi Netanyahu e l'analisi di William Galston che fa appunto un resoconto di quelli che sono stati anche gli accordi che sono stati essenzialmente degli accordi economici firmati in questi anni da Netanyahu con l'Egitto, la Siria, gli Emirati Arabi che sono stati presentati come degli accordi che avrebbero portato pace nella zona ma sono essenzialmente degli accordi di natura economica che nulla hanno a che fare con questa guerra e il riferimento è anche alla cartina presentata nelle scorse settimane dallo stesso Netanyahu dello Stato di Israele che appunto andava, arrivava fino al Mediterraneo con la cancellazione di fatto della striscia di Gaza. E poi due generazioni divise sul confine dell'odio è il racconto di Domenico Quirico che parla appunto di quanto sta avvenendo proprio sulla striscia che mette a confronto due generazioni quelle che comunque l'ultimo accordo del 2006 nella striscia di Gaza neppure erano nati e che adesso mostra quelle che sono appunto le pecche della geopolitica disegnata in questi anni e tra queste c'è il pericolo Cisgiordania e si teme la grande rivolta. Di spalla invece abbiamo la situazione economica italiana con le agenzie di rating che bocciano la manovra a causa del poco rigore su debito e deficit con invece la risposta di Giorgetti che invece difende la manovra fatta dal governo Meloni. Avvenire invece apre sui varchi necessari. Diplomazia, lavoro per una tregua e un corridoio umanitario che consentano i giovani di uscire a Gaza che è sotto assedio e al buio. Papa Francesco liberate gli ostaggi. La nuova escalation, l'offensiva israeliana senza precedenti sulla striscia ma risponde Hamas ancora con razzi. Il kibbutz dell'orrore, quello di Fara dove sono stati trucidati anche bambini e neonati e il riferimento ovviamente degli altri due approfondimenti riguardano appunto l'appello alla comunità internazionale a intervenire. La fotonotizia di taglio centrale dedicata all'arrivo di Zelensky a Bruxelles che dove è partecipato al vertice Nato. Il presidente ucraino ha chiesto e ottenuto nuovi aiuti nel giorno alla vigilia appunto della missione anche del segretario di Stato Blinken che sarà oggi in Israele per provare a mettere in qualche maniera non fine ma quantomeno ad arrivare al cessate il fuoco. E poi sempre in prima su avvenire adozioni, prove di riforma, un disegno di legge a firma di Fratelli d'Italia che già incassa le prime critiche per riformare le adozioni nel giorno in cui l'Unione Europea ha varato il piano demografia in quattro punti per rilanciare le nascite dagli asili nido agli interventi a favore delle coppie. E poi il verdetto d'appello con Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace, sentenza ribaltata, crollano quasi tutte le accuse. Infatti da tredici anni e due mesi a diciotto mesi, un anno e mezzo con pena sospesa per Mimmo appunto Lucano che risponde soltanto di abuso d'ufficio. Il Sole 24 ore dedica l'apertura alla via liberal deficit con le preoccupazioni dell'agenzia di rating, Fitch, l'Italia, l'ente dei conti e la Nadef. Però la fotonotizia è dedicata a Gaza che resta al buio e all'appello della Onlus Oxfam che denuncia le ospedali al collasso e l'assedio appunto ai territori palestinesi. Poi abbiamo, lo dicevamo, il Parlamento che approva la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza e lo scostamento di bilancio per il 2024 con Giorgetti che ha munito i ministri ricordando che non ci sono margini di spese per altre misure e l'introduzione della Global Tax per fare cassa. Però il Fondo Monetario sprona l'Italia, più ambizione serve nel controllo del debito. Poi abbiamo le privatizzazioni su furie dello Stato, il peso delle reti RFI e ANAS. Per il Tesoro la via più rapida è la cessione del 29% di poste che vale 3,6 miliardi. In prima pagina però troviamo anche il vertice Nato con Stoltenberg. Se è provato l'attacco al gasdotto sarà dura la risposta della Nato e del riferimento e anche al danneggiamento del gasdotto tra la Finlandia e l'Estonia da parte appunto della Russia. Il messaggero l'assedio di Gaza Israele schiera 300 mila soldati e dichiara legittimi gli obiettivi civili, razzi di Hamas sull'ospedale di Ashkelon, scontri al confine con il Libano che è un'altra zona di tensione, la cosiddetta Blue Line dove c'è il contingente Unifil che periodicamente riunisce i vertici dei paesi interessati, però si teme appunto che Jezbollah possa introdursi e immettersi in questa fase già di suo abbastanza critica. Più di taglio basso troviamo la giudice apostolico che boccia altri quattro trattenimenti dal CPR di Pozzallo, sono spariti i primi tunisini liberati nel frattempo mentre Piantedosi ha annunciato il ricorso contro le decisioni della giudice. Pensioni resta in vigore quota 103 ma c'è il taglio degli assegni più altri ed è riferimento all'approvazione dello scostamento di bilancio e al vertice che ieri sera la Premier ha avuto sulla manovra con la sua maggioranza. E poi il messaggio al comitato Expo di Mattarella che spinge Roma e l'inclusività della città. Il mattino di Napoli la morsa di Israele su Gaza, Erdogan in campo per la liberazione degli ostaggi e manca all'appello un terzo italiano che era al rave. L'ambasciatore di Israele in Italia, Alon Barr, Hamas si comporta come l'Isis, i nostri nemici non sono i civili. L'intervista del mattino che a centro pagina parla di calcio, il tecnico sui social voglio godermi la famiglia, il tecnico Antonio Conte che però si tira fuori dalla corsa perché sapete Garzia è già ai ferricorti con De Laurentiis. Rifiuti Campania, possibile chiusura dell'infrazione dell'Unione Europea, il ministro dell'ambiente Picchetto Fratin, condizioni per lo stop alla multa, la rete di impianti conduce all'autosufficienza. Poi la visita del ministro dell'istruzione Valditara, potenziate le scuole di Caivano, più docenti e tablet e poi di taglio basso apostolico fa il bis ma il viminale è pronto al ricorso sul non convalidare i trattenimenti nel CPR. Il resto del Carlino parla della guerra, il contrattacco con quello che sta avvenendo sulla striscia di Gaza mentre in taglio basso riporta anche una notizia che ha scosso Milano perché ha indagato anche l'archistar Boeri nell'ambito di un'indagine sulla turbativa d'assa per realizzazione di alcuni mobili e poi la giudice libera altri quattro migranti ed è riferimento alla giudice Yolanda Apostolico. L'eco di Bergamo, governo di guerra in Israele, Gaza al buio, razzi dal Libano, pronta l'invasione la Turchia tratta per i prigionieri e poi l'appello del Papa e l'apertura dell'eco di Bergamo che però fa riferimento anche alla omelia del vescovo Beschi nel giorno in cui si è festeggiata, c'è stata la festa liturgica per San Giovanni XXIII, proprio originario di Bergamo. Continuiamo a essere artigiani di pace, ha detto il vescovo ricordando il santo. In prima però anche la cronaca con la morte in un cantiere di un 43enne di Val Biondone, Mirko Semperboni è morto appunto sul lavoro schiacciato da un mezzo di lavoro che stava guidando per trasportare del materiale. Le cause sono da accertare ma l'uomo è morto sul colpo. La provincia apre invece con il processo a Tiziana Morandi, nota come l'amantide per chi avrebbe potuto uccidere ancora, chiesti 15 anni, la donna di Como è accusata di una serie di rapine, messi appunto anche avvelenando le sue vittime. Di taglio alto invece la devastazione messa appunto da alcuni ladri che cercavano la casaforte in una villa ed è successo in un'abitazione di Fenegrò. E poi la tragedia ad Albavilla dove un uomo di 76 anni è morto per un malore davanti al figlio mentre era nel bosco. La provincia di Lecco apre con l'operazione antidroga della polizia, droga in centro all'Ecco, manette a 12 persone. Un'indagine che ha smantellato appunto un gruppo che gestiva punti di spaccio in varie zone della città come Piazza Diaz, la stazione e anche il campus delle poste. I presunti responsabili sono 12 persone di nazionalità marocchina, tunisina ed egiziana tra i 20 e i 30 anni. Per lo più sono senza fissa dimora. E poi il nuovo Bione chiede degli investimenti di quasi 18 milioni di euro, il palazzetto dello sport, però servono altri soldi per metterlo in sicurezza. La provincia di Sondrio apre con il Golf Club che si può salvare la discesa di costi sul green. L'imprenditore presenterà una proposta per risanare la società e poi in taglio alto acquisto di test anti-covid truffata azienda tedesca e poi l'esercito a Gallivaggio via le reti con gli esplosivi. Andiamo a sud con la Gazzetta del Mezzogiorno ed il patto tra affitto e decaro per i piani urbani e relativi appunto al PNRR. Tra i due decaro in qualità di presidente del Lanci aveva criticato lo spostamento e lo spostamento di alcuni su altre misure di 13 dei 40 miliardi previsti per i comuni e appunto c'è stato questo chiarimento tra i due. Poi vertenza a Ilva dai sindacati parte un appello alla Premier Meloni perché intervenga per riuscire in qualche maniera a salvare il siderurgico in cui manca manutenzione e i contratti per gli operai non sono stati rispettati in maniera diciamo così come stabilito nel 2018. E poi l'Italia arriva a Bari, sarà festa del calcio e la Gazzetta del Mezzogiorno ha fatto l'intervista al presidente della FIGC Gravina sulla partita che appunto si giocherà sabato. L'edicola del sud senza soldi per la spesa a 22 mila famiglie povere, il caso a Bari la carta dedicata a te negata gran parte degli eventi diritto e pressing per riapire i termini. Poi la fotonotizia dedicata al lido trullo di Bari svolta per lo stabilimento balneare chiuso da tre anni, sia la concessione, il trullo rinasce, arriva all'ok, la proposta progettuale di una società salentina che gestisce anche alcuni lidi in Salento. Il quotidiano del sud diretto da Roberto Napoletano, la doppia sfida cruciale della Meloni, non farsi travolgere dalla crisi internazionale, trovare il massimo di coesione in casa, bisogna guidare il dibattito della pubblica opinione, scrive del paese per far l'uscire dal rumore del talk show all'italiana con Angeli e Demiani che non portano mai da nessuna parte. Poi la Nadef e la sanità, poche risorse per frenare l'esodo dei medici, per il settore emergenze e i rilievi della Corte dei Conti su quanto operato dal governo. Poi il PNRR è fitto spingere la spesa per sostenere crescita e debito, ma il Fondo Monetario controbatte, servono riforme per la crescita. Il giornale non dimentica ovviamente la striscia di Gaza e Israele, la mette nella boxierino che riguarda gli esteri della prima pagina, assedio di Israele, tutta Gaza resta senza corrente elettrica. E poi Tajani in Egitto, migranti e crisi in Mediorente nei colloqui con Al-Sissi e Meloni in Monzambico e Congo per la diversificazione energetica. E come sempre il Quotidiano del Sud chiude l'appuntamento con la nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata e vi lascio in compagnia dei programmi della rete.